Ciao, sono Aldo di Air Production e oggi proviamo a cucinare con l'AC100. Tra un ciocco e un altro vi spiego la macchina, abbiamo detto che è una C100 e stiamo utilizzando l'Atom Ninja 2, vi spiego brevemente e velocemente le funzioni, abbiamo il Magnific, il Picking che ci aiuta sulla messa a fuoco, lo Zebra per le sovrasposizioni, e cosa molto importante, a parte la funzione velocissima per il bilanciamento del bianco, il Custom Picture perché sia C100, C300, C500 e 1DC hanno tutte il Canon Log, filtri ND a bordo, siamo su un 7 quindi passano filtri ND a bordo, 2, 4 e 6 stop meccanici e abbiamo maniglione ergonomico, due ingressi Phantom su maniglione, settabili manualmente o in automatico, monitor regolabile, doppia scheda SD, possiamo fare sia ricezione singola oppure ricezione doppia. Ninja Settab, oggi utilizziamo in accoppiata alla C100 il registratore esterno Ninja per avere il file non compresso 422. Ninja Settab, oggi utilizziamo in accoppiata alla C100, 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 Miau